Giustinoski, un gol tuo apre le danze contro il Real Belvedere? Sì, sono felice per il mio primo gol, ma soprattutto per la squadra che abbiamo vinto e tre punti sono più importanti di quello. Un primo tempo in cui avete incontrato tante difficoltà, nella ripresa siete usciti più determinati e il gioco si è visto. Sì, come ho detto, è la prima partita, gente nuova, non abbiamo fatto male, abbiamo fatto bene, secondo tempo siamo messi a posto e il risultato è arrivato. L'ambiente dell'Eonico come l'ha trovato? Tutto benissimo, tutti sono molto felici qua, niente altro da aggiungere. Grazie. Grazie a voi.